Benvenuti, siamo con il professor Simone Di Gennaro, pedagogista ed educatore professionale per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Benvenuto professore. Grazie, grazie per l'invito. Professor Di Gennaro, voi avete effettuato una ricerca sulla diffusione dei social tra i ragazzi d'età compresa tra gli 11 e i 13 anni, quindi al di sotto dei 14 anni che è l'età minima per accedere alle piattaforme social. Cosa è emerso dalla vostra ricerca e quali sono i social più diffusi? Noi abbiamo provato a conoscere meglio la cosiddetta generazione alfa, la generazione dei ragazzi e delle ragazze che sono nate dopo il 2010 e che hanno delle prerogative molto particolari. In precedenza noi ci eravamo concentrati sulla generazione Z, ma poi ci siamo accorti che in effetti nel breve volgere di pochi anni le cose sono cambiate, stanno cambiando in maniera molto repentina. La generazione alfa è la prima generazione a essere nata in un mondo completamente digitale e appartengono a famiglie che pur con differenze che ovviamente ci sono dal punto di vista sociale e culturale, però hanno una certa facilità di accesso alla tecnologia. E allora noi abbiamo provato a capire meglio le prerogative di questa generazione e in modo particolare il loro rapporto con i social media, che sono una delle espressioni più potenti e evidenti del mondo digitale. Sono emerse tante cose, tante cose interessanti che provo a riassumere brevemente. Innanzitutto, come c'era da aspettarselo, è una generazione che ha una grande dimistichezza con l'accesso alla tecnologia. Fin dalla più tenera età, fin da quando hanno 9-10 anni, possiedono già uno smartphone e quindi hanno una certa indipendenza nell'accesso al mondo digitale. Il mondo digitale che è molto ricco di stimoli e anche di possibilità che loro cercano un po' di cogliere in maniera anche piuttosto diffusa e frequente. Quello che abbiamo potuto notare è che, da un certo punto di vista, soprattutto nella fase preadolescenziale, emerge un utilizzo passivo. Loro ovviamente utilizzano questi strumenti per comunicare con i propri compagni, con le proprie compagne, con i propri familiari, ma sostanzialmente nella maggior parte del tempo che cosa fanno? Fanno un utilizzo passivo. Tant'è vero che i social media più utilizzati sono TikTok o YouTube, che ha lanciato i cosiddetti short video già da un po' di tempo, cioè questi video molto brevi, dove si possono vedere tutta una serie di contenuti, alcuni a carattere scherzoso, alcuni magari anche in carattere un po' più divulgativo, e che sono fruiti da questa nuova generazione. Quindi questo utilizzo passivo fa sì che loro ricevano passivamente tutta una serie di stimoli di input. E quindi la domanda che ci siamo fatti, la domanda che ci siamo posti è qual è l'effetto di questo tipo di utilizzo? In modo particolare abbiamo concentrato l'attenzione su due aspetti, l'intelligenza emotiva e l'immagine corporea, comunque le influenze socioculturali che si generano da questo tipo di utilizzo. Perché abbiamo voluto scegliere questi due aspetti? Innanzitutto perché sono due elementi fondamentali nel processo di crescita e di maturazione dei preadolescenti. L'intelligenza emotiva e l'immagine corporea sono centrali per il benessere della salute dei preadolescenti e del loro processo di crescita e di maturazione. Ma poi abbiamo provato a cercare di capire se alcuni dei giudizi, delle valutazioni che vengono fatte da pedagogisti, da esperti nel settore rispetto alle nuove generazioni, siano vere oppure no. Spesso sentiamo dire ad esempio che le nuove generazioni non sono capaci di emozionarsi, non sono capaci di vivere le emozioni, di provare sentimenti, di sapere entrare in relazioni con l'altro. Quello che abbiamo visto invece è che andando a misurare l'intelligenza emotiva delle nuove generazioni, nel collettivo che abbiamo analizzato di quasi mille preadolescenti, l'intelligenza emotiva è pari a quella delle generazioni precedenti. Quindi loro hanno sviluppato l'intelligenza emotiva in maniera sana, corretta, appropriata. Ci sono poi degli effetti negativi sull'intelligenza emotiva che sono legati a un certo tipo di utilizzo e a una certa frequentazione, a una certa frequenza di utilizzo, che poi magari spiegherò meglio in un secondo momento. Ma rispetto all'intelligenza emotiva, come collettivo in generale, loro sono in grado di emozionarsi, di comprendere le emozioni e di saper gestire le relazioni con gli altri. Evidentemente quindi quello che stiamo percependo noi come vecchie generazioni non è una regressione, ma è un'evoluzione. Sta cambiando il modo in cui loro realizzano questo tipo di attività. E rispetto all'immagine corporea, e poi chiudo questa parte introduttiva rispetto alla ricerca, abbiamo notato che in effetti i messaggi che vengono veicolati attraverso questi mezzi, appunto i social media, possono impattare negativamente sul giudizio che loro hanno rispetto al livello di considerazione della bellezza e della percezione che loro hanno di loro stessi. Quindi da un certo punto di vista possono generare degli effetti negativi nella formazione della loro identità e nell'autostima che loro sviluppano rispetto al proprio aspetto fisico. Elementi che questi poi andrebbero approfonditi più nel dettaglio. Ecco, diciamo che appunto la vostra ricerca si è focalizzata su questa fascia di età che è al di sotto dei 14 anni, dove anche le politiche dei vari social media vietano di avere un account personale. Tant'è che Meta ha addirittura annunciato che ci saranno ulteriori restrizioni creando in automatico gli account teenager. Siamo sulla strada giusta? Allora, la strada che abbiamo intrapreso. Allora, noi credo che abbiamo un problema di qualità e di quantità, mentre dobbiamo assolutamente risolvere il frantendimento su utilizzo o non utilizzo. Cerco di spiegarmi meglio. Sempre più ricerche ci dicono che se utilizzate in una certa maniera, con gli strumenti adatti, con i giusti approcci, con i giusti contenuti, le risorse del mondo digitale possono diventare un potente strumento per l'educazione delle nuove generazioni. Questo ce lo dice la ricerca, ma ce lo dice anche tutta una serie di sperimentazioni tipo educativo e pedagogico che abbiamo sviluppato anche noi come università e che vanno esattamente verso questa direzione. Quindi, con questi strumenti io posso sviluppare tutta una serie di processi educativi che possono sostenere la crescita e la maturazione delle nuove generazioni, dei preadolescenti, eccetera, eccetera. Dobbiamo concentrarci ovviamente sulla qualità, cioè la tipologia dei contenuti, dei messaggi, degli stimoli che noi diamo attraverso questi strumenti. E poi abbiamo l'altro tema, che è il tema della quantità. Cioè, dobbiamo cercare di capire entro quale livello di utilizzo abbiamo un effetto positivo e quando ho superato una certa soglia invece si determina un effetto negativo. Quindi, per ricollegarmi a quello che dicevo in precedenza rispetto alla nostra ricerca, noi abbiamo notato che oltre a una certa soglia di utilizzo, che abbiamo cercato di quantificare, è sempre molto difficile cercare di misurare esattamente qual è stato il tempo di utilizzo, però che noi abbiamo provato a, come dire, quantificare intorno all'ora e mezza, due ore di social media, superata questa soglia subentrano tutta una serie di effetti legati alla dipendenza e alle forme di disagio, con degli impatti negativi sul loro livello di benessere. Quindi, vedete, ancora una volta qui si parla di quantità sotto quella soglia, diciamo, gli effetti non sono assolutamente negativi, anzi possono essere effetti positivi. Superata questa soglia, andrebbe meglio approfondito qual è esattamente il livello di soglia da non superare per evitare questi effetti negativi, però superata una certa soglia noi abbiamo questi effetti negativi. E allora il punto che ci dobbiamo porre non è tanto utilizzo o non utilizzo, ma come utilizzare questi strumenti. Ora, che queste grandi aziende abbiano fatto questa scelta, probabilmente da un certo punto di vista agevola questo ragionamento. Magari c'è chi dice che, come dire, sono delle scelte soprattutto legate al tentativo di evitare di perdere utilizzatori o evitare di avere tutta una serie di effetti negativi dal punto di vista delle politiche, dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera. Noi adesso non interessa qual è il motivo che ha spinto queste grandi aziende a fare queste scelte, però rispetto a questi ragionamenti è esattamente quello che ci vuole, provare a capire in che modo questi strumenti possono essere utilizzati in una maniera sana. Ecco, a tal proposito, molti genitori non capiscono perché ci sia una così forte resistenza sull'uso degli dispositivi digitali personali tra i ragazzi, tanto da portare il ministro Valditario a vietare in espressamente l'uso fino alla scuola secondaria di primo grado. Ci aiuta a capire se è corretto vietare questi strumenti in preadolescenza? Allora, io devo dire in tutta sincerità che non sono d'accordo con la scelta che è stata fatta dal ministro Valditario. L'abbiamo detto in precedenza, noi ci stiamo riferendo, stiamo entrando in relazione con delle generazioni che sono nate digitali, che hanno una facilità di utilizzo e di accesso a questi strumenti, che probabilmente fin dalla nascita hanno interazioni attraverso la tecnologia, che possa essere il cellulare, che possa essere il tablet, che possono essere ormai gli strumenti che quotidianamente noi utilizziamo, perfino la televisione, che sono collegati con il mondo digitale. E quindi probabilmente io avrei fatto una scelta in direzione opposta, cioè dove possono imparare l'utilizzo corretto, adeguato, appropriato di questi strumenti? Dove possono imparare a gestire i rischi? Dove possono imparare a utilizzare questi strumenti in proprio favore e non contro se stessi? È la scuola il luogo dove questo può avvenire? E quindi probabilmente io andrei proprio in una direzione opposta, cioè la scuola non dovrebbe chiudere, la scuola dovrebbe aprire, la scuola dovrebbe accettare questa sfida. Io immagino una situazione che non è assolutamente contraddittoria, perché se noi immaginiamo una situazione in cui su un banco di un nostro alunno o alunna abbiamo il cellulare e attraverso il cellulare e poi vengono fatte tutta una serie di ricerche, una serie di attività, è quello stesso banco, abbiamo il quaderno, abbiamo la penna, abbiamo il libro e quindi utilizziamo tutti gli strumenti che attualmente noi abbiamo a disposizione. Io non vedo una contraddizione, noi abbiamo posto il cellulare, il tablet come antitetico alla scrittura, invece noi dobbiamo entrare in una logica che è generativa, cioè questi sono strumenti che possono aumentare le possibilità e aumentare le opportunità di tipo educativo e quindi penna e cellulare possono tranquillamente convivere, il quaderno può tranquillamente convivere con il tablet così come fa il libro e quindi secondo me è stata una scelta sbagliata perché preclude uno spazio dove si possono sperimentare queste cose al di fuori del contesto familiare e quindi da un certo punto di vista noi abbiamo lasciato e stiamo lasciando le nuove generazioni da soli con degli strumenti senza le giuste indicazioni di tipo educativo su come poterli utilizzare. È una scelta che probabilmente potremmo pagare in maniera piuttosto cara. Ecco l'ultima domanda, è stata lanciata una petizione a molti esperti in ambito educativo i cui primi firmatari sono Daniele Lomare e Alberto Pellai per evitare il possesso di uno smartphone personale al di sotto dei 14 anni e account sui social al di sotto dei 16 anni. In base anche alla vostra ricerca, cosa pensa di questa proposta? Devo dire che questa proposta ha tutto il romanticismo e il fascino delle cause perse se posso metterla in questi termini. Innanzitutto ovviamente c'è di buono che con questa petizione rimane alta l'attenzione su questo tema, su questa questione importante e aiuta il dibattito e il confronto che in ambito educativo e in ambito sociale è fondamentale. Quindi sicuramente va dato merito a questo processo che è stato avviato da diversi colleghi e esperti del settore perché pone ancora una volta al centro del dibattito questa questione. Però mi dà la sensazione che sia una causa persa per due motivi. Il primo, innanzitutto sembra una petizione fatta da una generazione vecchia che ha fatto un ragionamento forse piuttosto limitato del tipo tolgo lo smartphone e togliendo lo smartphone precludo l'accesso a tutta una serie di contenuti. Questo è un ragionamento di una generazione vecchia. Le nuove generazioni sanno perfettamente che qualsiasi device, e infatti lo fanno su base quotidiana, possono avere accesso a quelle stesse app, a quegli stessi contenuti con cui accedono attraverso il cellulare. E quindi se non è il cellulare possono utilizzare il tablet, se non è il tablet possono utilizzare la console di gioco, se non è la console di gioco possono utilizzare la smart tv con cui possono accedere ai social media. Quindi, come dire, mi dà la sensazione di provare a chiudere una porta quando ci sono tanti altri portoni che sono assolutamente spalancati. Ma mi dà anche ulteriormente la sensazione di essere una causa persa perché, come abbiamo detto in precedenza, noi non ci dobbiamo concentrare su utilizzo o non utilizzo. Ormai l'utilizzo da un certo punto di vista è assodato, ci sono tutta una serie di strumenti che fanno parte del loro quotidiano. Ormai attraverso i social media possono entrare in relazione, possono comunicare, possono chiedere i compiti, possono avere delle interazioni addirittura con i docenti. Quindi, diciamo, sono strumenti che assolutamente devono essere nella loro disponibilità. Dobbiamo domandarci come utilizzarli, attraverso quali processi educativi noi possiamo fare in modo che questi strumenti, come detto in precedenza, diventino un sostegno per la loro crescita e maturazione e non un impedimento. Allora, noi attraverso questa ricerca e cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a mettere a fuoco quali sono i potenziali problemi. Però, voglio superare questo fraintendimento, nel momento in cui noi individuiamo un problema, dobbiamo cercare di capire in che modo quel problema possa essere risolto dentro le opportunità che ci vengono offerte dalla tecnologia del mondo digitale. Non dobbiamo poi avviare una caccia alle streghe che rischia di essere controproducente. Questo probabilmente è l'auspicio che da un certo punto di vista dobbiamo darci e dobbiamo cercare di perseguire, cioè capire in che modo questa tecnologia e le opportunità che ci dà il mondo digitale possono diventare un alleato nei processi di tipo educativo e come poterli integrare in favore dello sviluppo delle nuove generazioni. Soprattutto dobbiamo cercare di evitare, anche attraverso questi processi, di creare dei conflitti di tipo generazionale. Lo dicevo in precedenza, spesso sento dire, anche da esperti, da pedagogisti, tutta una serie di affermazioni riguardo all'incapacità che hanno le nuove generazioni, al fatto che sono una generazione perduta, al fatto che sembra che stiano costruendo un mondo che rischia di collassare. Probabilmente questo è un atteggiamento di una vecchia generazione che non riesce a comprendere che tipo di mondo sta costruendo una nuova generazione. Ed è controproducente. C'è di buono della vecchia generazione che dobbiamo cercare di portare e traslare della nuova generazione, ma allo stesso tempo dobbiamo, come vecchia generazione, accettare il fatto che il mondo che si sta costruendo, è un mondo diverso da quello che noi abbiamo proposto, ma che è un mondo diverso anche da quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori. È un processo evolutivo e questo processo evolutivo non può essere fermato. Allora, l'auspicio è che noi dobbiamo costruire delle nuove alleanze educative, in cui vecchie e nuove generazioni costruiscono un futuro migliore, utilizzando le opportunità che ci vengono offerte dallo sviluppo tecnologico. Ecco, una battuta finale. La vostra ricerca è inserita anche all'interno di un libro, che parla anche di altre cose. Chi volesse approfondire questo argomento, ci dà qualche spunto dove poter trovarlo? Grazie, sì, assolutamente. Ne approfitto, ecco qui, una copia del libro edito dalla Ericsson che si chiama Io Corpo, perché occorre ripensare il pensiero pedagogico e il modo in cui educhiamo. Abbiamo appunto cercato di partire dai dati, dalle ricerche che sono svolte da noi, ma anche davanti ad altri colleghi, da altri istituti universitari, per cercare poi di fare delle proposte concrete di tipo educativo. Quindi metterci al servizio della scuola, degli educatori, degli insegnanti, affinché queste sfide possano essere vinte e superate. Grazie per essere in generale, sei stato con noi. Grazie a voi per l'invito.